Solita curva definita giusta ragione della morte, solito motivo l'asfalto e un nuovo incidente sulla strada provinciale 231 nei pressi di Canosa di Puglia, dove un tir di un'azienda di trasporti è finito fuoristrada terminando la corsa contro un muretto che delimita la carreggiata. L'incidente è avvenuto attorno alle 18 e non vi sono conseguenze per il conducente rimasto illeso. Sul posto immediato l'intervento della polizia locale di Canosa di Puglia e di una pattuglia del commissariato di pubblica sicurezza, ma anche dei volontari della misericordia di Montegrosso. Nessun problema per la circolazione stradale.